Sandro Ghiani è nato a Carbonia e ha compiuto i suoi studi in seminario, nell'istituto di Don Orione a Tortona, dove, con i primi spettacoli a livello amatoriale, ha scoperto la sua passione per la recitazione, ha lavorato per il cinema, per la televisione, per la radio e per il teatro. Ha avuto anche esperienze come doppio attore per il cinema e la televisione, per la sua partecipazione in Passione d'Amore di Ettore Scola. Sandro Ghiani è entrato nella terna finale del David di Donatello come miglior attore e non protagonista, caratterista attivissimo negli anni Ottanta. Il suo ruolo più noto è quello del poliziotto De Simone in Fracchia alla Belva Umana, 1981, accanto a Lino Banfi e Paolo Villaggio. Il personaggio da lui interpretato veniva sempre contraddetto dal suo diretto superiore Banfi, che poi però diceva o faceva regolarmente quello che in precedenza il suo subordinato aveva, proposto vedendoselo puntualmente rifiutare.